A tutti questi paesi della Giana, scrivetevelo tutti in talo fronte, attacca gente l'uomo. Io sposerò l'uomo che riuscirà a prendermi. Un giorno qualcuno ti prenderà e quello che ti prenderà lo hai sposato. Ma io sono sicura che nessuno riuscirà a prendermi. E' fortunato che l'ho trovata io. Come la scarpa deve essere ancora una signorina bellissima. Mi prego, portami mio, sei super, mi prego.